benvenuti o bentornati ragazzi siamo sempre su Assassin's Creed Valhalla sempre con il nostro mitico Eivor intenuto da San Giorgio e in questo video vorremmo completare l'esplorazione dell'inghiltella dell'inghiltella allora per completare l'esplorazione dell'inghiltella ci mancano tutte queste missioni qua in varie regioni tipo le The Chester Shire, Shirob Shire eccetera oggi inizieremo a fare quelle missioni qua quei tutti quei vari punti qua che ci mancano fino ad avere l'inghilterra completa al cento per cento iniziamo dalle The Chester signori a quella missione qua quindi andiamo qui ci vediamo qua ok signori questo se non ricordo male voleva le anguille ho la tua anguilla oh bene mettila pure nella pentola dove qua che ragisce ah ecco è pronta vuoi essere così gentile vuoi che sia io a provarla certo poiché il tuo palato è meno alterato del mio e che sia un assaggio generoso un assaggio beve così beve e il verdetto no no non ci siamo oddio se ti consola ho mangiato di peggio suppongo di aver fallito è finita raccoglierò le mie cose scoprirò cosa poter offrirmi i frutti di un altro regno dove andrai a a worcester credo ma che io sia dannato se darò alla mia salsa il nome di quel posto miserabile grazie per il tuo aiuto non conosco molti danesi né voglio conoscerli ma tu mi hai spinto a voltare pagina se posso chiederti un altro favore porta il mio fallimento nelle grotte sotto la mia casa nascondilo per sempre alla mia vista addio e buona fortuna ne avrai bisogno ok signori opportunità completata evento storia la salsa di le decestre signori molto bene mappa adesso la prossima cosa che c'è da fare è l'altare qua delle offerte andiamo a fare l'offerta ok signori siamo arrivati all'altare delle offerte ci vogliono tre zampe zampi zampe di lepre per poter fare l'offerta leggi non mi interessa facciamo l'offerta con l'armatura qua è spettacolare ragazzi è proprio bella andate a vedere come far a prenderla anche voi è piuttosto facile ok l'opportunità completata altare delle offerte altare delle offerte di churnerly o come si dice sbagliato andiamo su mappa qua siamo a posto signori andiamo a fare quella missione qua ok signori mi ricordo c'era dare le uova c'era infatti dare le uova per la vecchia qua dovrei avercele pochè quattro uova ciao benenato sapevo che me ne sarei vendito per poco non mi usciamo le viscere chissà quale scompiglio che ha usato il mio premio prima che io svenca come promesso beh non hai niente da dire sul fragore lasciamo perdere sono senza fiato va bene ragazzi opportunità completata il vento mortifero molto bene signori ce ne usciamo da qui chiave delle fondi delle de cestre adesso ci manca questa qui andiamo qua signori ragazzi siamo arrivati qua ma non mi ricordo cosa devo fare assolutamente proprio zero c'era qualcosa nella casa nel villaggio se non ricordo male ma non mi ricordo bene vediamo cosa riusciamo a fare questa cassa è piena di canzoni ci sarà voluto molto tempo per scriverle ecco cosa che serviva ragazzi la cassa con le canzoni bene andiamo torniamo dal razziatore ah allora la casa è quella davanti in parte a quell'albero grande vi faccio vedere anche la mappa qui in quella posizione qui praticamente vi faccio vedere bene la strada per tornare da lui quindi fate la strada all'inverso se anche voi non avete finito questa missione usciti da qui si scende ragazzi verso il porticciolo il porto il tipo la su quell'isola la solitaria possiamo evitare di andare in acqua passando da qui ok adesso li lasciamo qua la cassa perfetto ah non sei contento? tipo non va bene? non va bene a quanto pare se mi sedessi perfetto ragazzi giusto Yvonne giusto Yvonne scusate ragazzi ti prego dimmi il tuo nome Eivor Eivor se gli dei vorranno attenderò il tuo arrivo alla tavola di Odino e la parlerò di te così quando giungerai ogni guerriero potrà accoglierti facendo il tuo nome addio perfetto signori opportunità completata evento storia la vecchia guardia ok signori adesso prima di scendere in questa parte dell'inghilterra che ci mancano cose anche qui finiamo la parte più settentrionale con queste due cose dello Shirobshire cominciamo con la bestia delle colline perché qua come vedete le trote piccole non le ho dovremo recuperarle magari andando a pescare qua vedremo un attimo cosa fare quindi cominciamo da qui ci vediamo qua ok ragazzi siamo arrivati sul posto seguite sempre il sangue signori seguite sempre il sangue signori ma Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sicura? Ma cosa stai facendo? Ma come dire? Ma stai scherzando? Ma questo che? Sicura anche? Ma cioè, sto guardando l'ora e io adesso? Ecco l'ho anche preso. Ho finito le frecce, ragazzi. No! Ma sicura, ragazzi. Cioè, è invincibile qualcosa qua. Grazie a tutti. Non sei un po' troppo grande, che ti hanno fatto un po' troppo forte, no? No? Ok, si rotola anche, ragazzi. Non so se è un buon segno. Ehi. Cioè, Evora è distrutto. L'orso non ha niente. Oh mio Dio. Che cattiveria. Ehi. 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 che cattiveria. Ehi. 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 ok forse adesso no no si grazie è diventato fortissimo è super aggressivo no abbiamo anche mancato quella mossa speciale molto brutta questa cosa lo stiamo per uccidere ma dispiace comunque è stato un degno avversario vediamo se alla fine vince lui o vinciamo noi non cato grazie non ne ho no niente da fare ok non l'abbiamo fatta mi dispiace mi dispiace il sacchiotto mi dispiace davvero I'm sorry non volevo I'm sorry testa della besta della collina cuoio e razioni ce l'abbiamo fatta signori bene signori per adesso ci fermiamo qui mi raccomando mettete un bel mi piace iscrivetevi e nel prossimo video continueremo insieme quello che ci manca da completare nell'Inghilterra bene è tutto signori vi ringrazio alla prossima ciao ciao